Non sei proprio sicura, Scutaloo? Non ho mai sentito parlare di poni che abbiano provato la zipline! Nemmeno io! Ma Spike mi ha detto che è... Ska! Vedi qualcosa? Resina d'albero e aghi di pino, ma nessun cutie, Mark! Passiamo al piano B! Certo! Sovete dove potremmo trovare un cannone da queste parti? Non è giusto! Qualunque cosa facciamo sembra impossibile ottenere il simbolo di bellezza, mentre è facilissimo ritrovarsi ricoperte di resina d'albero! Forse dovremmo provare qualcosa di meno pericoloso, come testare i cuscini o non usare i fiori! La città è piena di poni che hanno ottenuto il chiodi, Mark! Scopriamo come l'hanno ottenuto grande idea, soprattutto meno pericolosa! Già, e possiamo cominciare dal poni più cool di tutta Bonnyville! Applejack! Rarity! E dai ragazzi, ho detto cool! Sapete di chi sto parlando? È veloce! È tolta! E poi non ha paura di niente! E chi vuoi? No, il migliore elemento che sia mai uscito dal nuvola City! Fluttershy! No, Rainbow Dash! Oh, finalmente! Adesso sì che è tutto chiaro! Certo! Muoviamoci, dobbiamo scoprire come Rainbow Dash ha ottenuto il chiodi, Mark! Fluttershy! Tornate qui, ladroncoli che non siete altro! Ma che succede? Apple Bloom! Senti, come hai avuto il tuo simbolo di bellezza! Non vi ho mai raccontato la storia! Ehi, ma non dovevamo chiederlo a Rainbow Dash! Ogni esperienza può essere utile! D'accordo! Dunque, allora, ero una giovane pulera! Non avevo nemmeno la vostra età! Non volevo passare la vita in una fattoria dove si coltivavano le mele! Desideravo una vita raffinata come quella di zia e zio Orange! Perciò decisi di cercare fortuna nella grande città, Mainhattan! La città più cosmopolita di tutte e queste! Ehi, alla larga! Sono piccola! Sapevo che a Mainhattan avrei trovato la mia identità! Tia Orange! Tio Orange! Grazie davvero per l'ospitalità, gente! Gente! Non la trovi anche tu straordinaria? Davvero pittoresca! Tranquilla! In men che non si dica, ti trasformeremo in una vera abitante di Mainhattan! Una splendida tavolata! Tutti carina! Racconta! E come trovi la nostra vecchia Mainhattan vicina? Oh, semplicemente divina! Ottima risposta, mia cara! Anche se devo ammettere che ho faticato ad abituarmi ai rumori della città! In campagna la notte è così silenziosa che non si sente volare una mosca fino al canto del gallo! E dimmi, mia cara, che cosa sarebbe mai un gatto? Che sento? Che cosa ho detto di strano? Non voglio fare la figura della sciocca! La cena è servita! Ah, per fortuna essere un po' niticità è indegnativo! Ho così fame che potrei mangiare... Chissà cosa faranno stamattina Granny Smith e Big Macintosh! Sconvitto che stanno per cominciare la raccolta di deliziose mele rosse! Oh, che cosa darei per mangiarne uno adesso? Non ho mai avuto così tanta nostalgia di casa come in quell'occasione! Fu straordinario! Un arcobaleno che mi indicava la via di casa! In quel momento capii quello che dovevo fare! Mi apparve subito chiaro qual era il mio posto! È stato in quel momento che è comparto il simbolo!